Gli ACAT coinvolgono soprattutto gli adulti con problemi di dipendenza, ma avete un occhio di riguardo e attenzione anche per il mondo dei giovani? Sì, è vero. Anzi, noi siamo partiti coinvolgendo di più gli adulti, perché il problema allora era più degli adulti. Oggi invece ci siamo accorti che il problema sta diventando più sui giovani, si sta orientando più sui giovani, proprio per queste serate di sballo che fanno. E voi avete anche delle iniziative particolari che cercano di coinvolgere i ragazzi direttamente già anche nelle scuole? Sì, noi da qualche anno entriamo nelle scuole, siamo partiti dalle superiori qualche anno fa, adesso da un paio d'anni anche a livello di media, di medie. Per ora ci siamo limitati solo alle terze medie, però abbiamo fatto un percorso sia l'anno scorso che due anni fa a Rovetta, nelle medie di Rovetta. Anni fa ancora abbiamo fatto dei percorsi al Fantone di Clusone e altre cose che facciamo sul territorio sono le scuole di terzo modulo, le SAT-3, cioè scuola arcologica di terzo modulo, che è proprio indicata per sensibilizzare tutta la popolazione lì. Le due serate, perché sono due serate, sono aperte proprio a tutta la popolazione. Rita Ceri, l'abuso di sostanze alcoliche tra i giovani è un problema molto sentito sul nostro territorio? Sì, è molto sentito, soprattutto il lunedì dopo il fine settimana, proprio per questo motivo siamo sempre contattati da vari gruppi, associazioni del territorio, comuni, proprio per lavorare insieme e pensare a delle strategie di prevenzione a questo problema. Ci sono diverse iniziative che state portando avanti? Ci sono diverse iniziative, ne abbiamo una in Val di Scalve, ne abbiamo un'altra a Castione, interveniamo con il codice etico sul consumo di alcol durante le feste estive, a cui appunto abbiamo un po' il ruolo di fare da consulenza e dare una serie di indicazioni che possono essere protettive nei confronti dei giovani. E i giovani oggi abusano concentrando il consumo soprattutto nel fine settimana? Devo proprio dire questo, sì, soprattutto nel fine settimana, in genere è un fenomeno che viene definito binge e drink, quindi l'assunzione di 5 o 6 drink tutti insieme e quindi come dire fare una serie di abbuffate di alcol. Quindi ragazzi normalissimi che da lunedì al venerdì vanno a scuola, a lavoro, poi al fine settimana. Però nel fine settimana come dire, tra virgolette sballano e pensano che il consumo di alcol aumenti il loro modo di divertirsi insomma. E tutto ciò chiaramente ha dei rischi. Può essere pericolosa, lo è pericolosa per quanto riguarda i minori che non dovrebbero bere alcol, lo è anche però per i maggiorelli soprattutto se si mettono alla guida di un mezzo.